Se chiudo gli occhi e penso alle prime cose che mi vengono in mente sono sicuramente il profumo della pelle. Il suono degli strumenti che vengono utilizzati per le lavorazioni. A volte è anche il silenzio che c'è all'interno dell'atelier creato dall'impegno e dalla concentrazione degli artigiani in fase di sperimentazione. L'intrecciato è una straordinaria forma d'arte. Diventa quasi il foglio bianco su cui fare lavorazioni diverse alternare colori, tipologie, misure e tecniche costruttive. è la materia prima su cui operiamo e costruiamo i nostri prodotti. L'effetto e il contributo della persona diventa determinante. la lealtà, il senso di appartenenza, il senso di squadra sono per noi fondamentali. Il vero lusso richiede tempo. Quando si tratta di produrre una borsa a bottega Veneta noi contiamo i giorni, non le ore. Il vero lusso richiede tempo. Il vero lusso richiede tempo. Il vero lusso richiede tempo. Il vero l'attrazione della casa. Il vero lusso richiede tempo. Grazie a tutti.